...che c'è in quello di due cibi consecutivi? Eh, ho visto, ho visto, ho visto! Bravi alto! Eh, senza tempo come passate? No, ce l'ho, no, dai, dai, dai! Eh! Lincoln! Bravi alto! Bravi alto! Visti di rosso! Eh, e il tempo? Come fa? L'hai preso a culo? Eh sì, perché ho detto, non è tiro, non è tiro il cavolo! Ma adesso non ho capito perché è in casa! Quanto manca? Quanto manca? Oh, oh! Non l'ho venuto per te, eh? Ma stai rispondendo, eh? Dimmi te al via perché io non vedo, ecce... Quanto manca? ... Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie. Grazie a tutti. No. Stavo tirando bene a cazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi metto. No. 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 E' a me lo so, non ti preoccupare E' dimmi perché, secondo te? E' dimmi perché Perché mi ha passato Mi ha passato E' capito, a ruigi, entro 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.